letteratura è morta ombra di narciso ci posso la chiamare questa questa non c'è scappa delle beriche su da capa non ho capito deve essere la chiamare una papera spesa tra l'altro non lo so 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 quando vuoi trovare una cosa non c'è scritto il cartello ordone scusi signore cosa sta cercando un libro il titolo l'uomo ovvero il sesso forte il reparto fantascienze e da quella parte non domandino l'ambiente non c'è tre vendere lo scopo è l'uomo da sesso soffo accattopo le lingue ma sei pure presa a legge la barattina scappa e sbagliateci in un forno che ti vede scusi signore andò